Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal dunque prolungata e modificata l'allerta meteo per piogge diffuse temporali nel dettaglio zona A bacini medi e grandi allerta gialla prolungata fino alle 21 di oggi giovedì 15 marzo zona B gialla fino alle 23 59 di oggi zona C bacini piccoli gialla fino alle 23 59 di oggi bacini media arancione fino alle 23 59 di oggi poi gialla da mezzanotte alle 6 di domani venerdì 16 marzo zona C bacini grandi arancione fino alle 6 di domani venerdì poi gialla fino alle 13 zona D bacini piccoli e medi gialla fino alle 23 59 di oggi zona E gialla su tutti i bacini fino alle 23 59 criticità verde sui bacini piccoli di A e sui grandi di D cosa sta accadendo sta passando sta transitando una vasta struttura frontale che determina questa fase di maltempo oggi giovedì 15 marzo piogge diffuse persistenti su tutta la regione localmente i fenomeni potrebbero assumere carattere di rovescio temporale più probabile in serata 20 moderati settentrionali a ponente in rinforzo fino a forti nel pomeriggio tra forti e burrasca da sud est sul centro e su Levante in attenuazione dal pomeriggio mare generalmente molto mosso localmente agitato a Levante temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 11 e 13 gradi nell'interno intorno a 9 10 gradi domani venerdì 16 marzo fino al mattino deboli pioggia residua a Levante tregua precipitativa nelle ore centrali accompagnata da qualche temporanea timida schiarita in serata nuova ripresa delle precipitazioni a cominciare dal settore centro occidentale venti inizialmente deboli o moderati di direzione variabile tendenti a ruotare dai quadranti meridionali dal pomeriggio mare mosso temperature minime in diminuzione lungo la costa intorno 7 8 gradi nell'interno intorno 3 4 gradi massime stazionare lungo la costa tra 12 e 15 gradi nell'interno intorno 12 13 gradi dopo domani sabato 17 marzo avremo ancora una giornata caratterizzata da piogge diffuse localmente persistenti venti deboli o moderati in prevalenza meridionale in rotazione da nord ovest in serata sul settore centrale mare generalmente mosso un rapido aumento fino a molto mosso dal pomeriggio agitato a Levante dalla serata temperature minime in aumento lungo la costa intorno 10 11 gradi nelle zone interne tra 6 e 8 gradi massime stazionare lungo la costa tra 12 e 15 gradi nell'interno tra 10 e 13 gradi è tutto seguite gli aggiornamenti sull'allerta su www.allertaliguria.gov.it e poi sul sito arpal www.arpal.gov.it sulla pagina facebook dell'agenzia risentirci